Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sud e a Firenze Scandicci, proveranno da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare, coda per traffico tra Prato Ovest e il Bivio 11 a 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. Arriviamo in Fipilico, da tratti per gli spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci, ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze, traffico sostenuto sui viali di circonvallazione. Nell'ambito dei cantieri tramvia informiamo che è stato revocato il restringimento di carreggiata nel sottopasso Milton Strozzi. I veicoli hanno quindi a disposizione due corsie verso Viale Belfiore, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!